Trazioni orizzontali a prese inversa, ottimo esercizio per andare a sfruttare il lavoro dei bicipiti e dei muscoli della tirata del dorso quindi vi posizionate su una sbarra più o meno che rimanga alla altezza del corso l'addome, da questa posizione vi posizionate e vi portate su lavorando in prese inversa il busto tende a raddrizzarsi quando vi sollevate Grazie